Professore Muley, in un comunicato stampa lei propone una stazione climatico balneare a Gela, un'idea che sembrerebbe innovativa in questi anni, ma che in realtà è stata ripescata nell'archivio storico del comune di Gela. Sì, durante una delottante ricerca che ho fatto all'archivio storico, ho trovato un carteggio che si riferisce a una stazione climatica a Gela. Nel 1928 il potestà dell'epoca scriveva al Ministero degli Interni per farsi autorizzare l'istituzione di una stazione climatica e terapeutica e a quanto pare confortata, vedendo altri carteggi, da diversi comuni dell'Interland, Vittoria, San Michele di Canzeria, Butera, e quindi a quanto sembra questa stazione climatica nacque, tant'è che nel 1930 fu realizzato l'ospizio marino. Ce ne siamo un po' dimenticati in realtà perché si tratta di sfruttare quello che già c'è, che esiste assolutamente, ovvero il clima straordinario che abbiamo in questa città e poi la sabbia. E pare che appunto che questa sabbia abbia dei benefici importanti per la salute. Ma non è solamente questo che è stato dimenticato a Gela, moltissime cose sono state dimenticate a Gela, in particolare dopo l'insediamento del petrolchimico che ha fatto perdere alla città l'imprenditorialità. Speriamo che rinasca questa imprenditorialità e in particolare riservata a questa istituzione della stazione climatica. Nell'ospizio marino, che funzionò fino alla fine degli anni 50, primi anni 60, erano ospitati ragazzini dai 7 ai 15 anni che avevano malattie riferite alla pelle ma anche riferite all'apparato polmonare. E attraverso la psammoterapia, cioè la cura della sabbia, e la talassoterapia, la cura del mare, e anche all'elioterapia ovviamente, venivano a passare tutta l'estate qui con benefici di guarigione che sono stati dimostrati, che io ho visto in altri carteggi. Dunque lei vorrebbe lanciare adesso una proposta? Certo, una proposta agli imprenditori e ai giovani in particolare, dal momento che c'è questa dismissione dell'indotto quindi bisogna darsi da fare, ed è quella di realizzare una start-up per fare in modo di istituire a Gela, come è stato fatto negli anni 30, una stazione climatica di cura.